faceva il palo nella banda dell'ortiga ma era sguercio non ci vedeva quasi più ed è stato così che li hanno presi senza fatica li hanno presi tutti 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 fuori che lui lui era fisso che sfruttava nella notte quando gli è passato davanti a lui un carabiniere insomma un ghisattrica rima e un metronotte nonca una piega nulla fa nonca un plisset faceva il palo nella banda dell'ortiga faceva il palo perché l'era il sommeste così precisi come quei della mascherpa sono stati lì i suoi amici a vedere i carabinieri hanno detto ma come porco giù da mondo cane il nostro palo brutta bestia ma dov'è lui era fisso che sfruttava nella notte ha visto nulla ma il coupé non sentì niente perché a vederci non vedeva un'automotte però a sentirci che sentiva un accidente faceva il palo nella banda dell'ortiga faceva il palo perché l'era il sommeste ci sono stati pugni, spari, grida e botte e a me la mia ne raggiamo quasi mesi lui sempre fisso lì a scrutare nella notte perché ci vedeva i stessi d'or come dellì ed è lì ancora come un palo nella via la gente guarda gli dà il cittolino e poi poi va lui circospetto guarda in giro e mette via ma poi barbotta perché ormai l'è un cuore a via ed è arrabbiato con la banda dell'ortiga perché lui dice non si fa così a rubare dice ma come a me mi lascia qui di fuori e loro chissà quando è che vengo su e poi poi il bottino me lo portano su a centoline un po' per volta ma poi così non finiamo più no no peschi è proprio un lavorato e stupido io sono un palo non un babba non ci sto più io vengo via da questa banda di sbalmati mi metto in proprio così non ci penso più faceva il palo nella banda dell'ortiga faceva il palo perché l'era il suo mestre faceva il palo nella banda dell'ortiga faceva il palo il palo perché l'era il suo mestre è una storia vera il palo nella banda dell'ortiga e il suo mestre è una storia vera e si è riconosciuto vicino alla breta l'era il suo mestre è una storia un dì lui l'aveva menata a vedere l'afferra l'agheva un vestidino colore dentro su disse vorrei un craft non ho moneta pronti l'afferra 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 no 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 Grazie.